Ti ringrazio e ti benedico, Signore, che non smetti mai di sorprenderci con le Tue trovate sempre nuove. Quando meno uno se l'aspetta, tu arrivi senza neppure un preavviso e combini delle cose che ci stupiscono. Quando si tratta di far conoscere la Tua misericordia senza limiti, ti vanno bene anche le persone che sembrano meno adatte. Per ogni persona tu conosci il pozzo accanto al quale l'aspetti, per farle trovare gratuitamente quello che per anni ha cercato e rincorso con affanno. Più che le labbra assetate, spesso è il mio cuore che cerca un'acqua impossibile per estinguere un'indefinibile arsura. Ecco allora che tu mi offri un'acqua che non osavo sperare. Mi hai donato te stesso, acqua che non ristagna, acqua che disseta per sempre. Presso quel pozzo, quando tu mi hai parlato, sono cadute le tenebre. Il mio cuore si è sentito rigolmo di gioia. Io mi sono sentito rinascere. Tutto questo ha fatto la Tua grazia che d'ora in poi voglio far conoscere a tutte le persone che ti cercano senza saperlo in ogni briciola di gioia che il tempo offre. Grazie.